Perché acquistare i miei nuovi corsi dedicati alla crescita personale? Sono entrambi due corsi molto pratici che ti danno delle strategie, ti danno delle tecniche, ti fanno riflettere. Chiedo infatti di mettere di fianco a voi carte e penna oppure utilizzare anche le note del computer per poter proprio esercitarsi e passo passo andare proprio ad affrontare le esercitazioni che propongo attraverso quindi un processo di riflessione molto importante. Vi aiuterò quindi a fissare obiettivi, a proporre nuove abitudini che possono giovarvi ed esservi d'aiuto nella vostra quotidianità. È il momento giusto questo nella fase estiva perché vi permetteranno proprio di programmare poi a settembre un cambiamento, un cambiamento nuovo rispetto ai propri obiettivi personali e anche le vostre abitudini magari disfunzionali per trasformarle invece in funzionali. Quindi se volete scaricare e acquistare i corsi potete andare nell'area shop del mio sito www.guidodacutipsicolog.it.shop e essere rindirizzati poi sulla mia pagina di Teachable per i corsi online. Grazie